Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Fortnite Stamattina andremo a vedere quanti V-Bucks si possono fare con Salva al Mondo pacchetto fondatore e insieme anche lo shop giornaliero di oggi mercoledì 4 dicembre 2024 quindi quarto giorno del capitolo 6 stagione 1 di Fortnite e ora colleghiamoci su Salva al Mondo Allora oggi abbiamo 80 V-Bucks grazie all'incarico giornaliero sterminano di abietti con lo straniero e poi 35 V-Bucks allarguta livello 52 e la missione questa qui che vi faccio vedere eccola qui evacua il rifugio altri 35 V-Bucks per un totale di 105 V-Bucks solo per oggi qui su Salva al Mondo ricordo inoltre che il 22 dicembre se raggiungiamo i 100 like al video ad un video faremo la quarta coppa Jan 1000 V-Bucks in paglio modalità rientro singolo 0 build quindi se volete partecipare iscrivetevi, attivate la campanellina e lasciate un like detto ciò andiamo a vedere lo shop giornaliero insieme con ancora Catwoman eccola qui mi raccomando se shoppate usate il codice creatore il Jan YT 1500 V-Bucks e poi abbiamo Rubius 1500 le mot tasti ASMR Asmr c'è ancora Icy Spice le due versioni poi abbiamo tutte e tre le skin di Eminem anzi tutte e quattro ben quattro skin di Eminem eccole qui 1500 V-Bucks cada una Snoop Dogg Snoop Dogg tutto ciò che riguarda Juice Ward con la skin è ancora presente nello shop 1800 V-Bucks Ariana Grande 1500-1800 il bundle e poi le calzature viste l'altro giorno e poi tutta la parte dedicata al Giappone con Shogun X uscita ieri Kuno Zuki Design Zuki la Shogun classica bellissima Ime anche questa con il suo colore aggiuntivo nero Ladrona Bananita Dynamo Dynamo anzi Artiglio Bruto Contessa Contessa Daraku e poi abbiamo le leggende invernali con il pacchetto leggende gelate 2500 V-Bucks e il pacchetto leggende ghiaccio 2500 V-Bucks Poi passiamo ai veicoli veicoli che abbiamo la Void Barn la Dodge Charger RST di Fast & Furious il Porsche 2800 V-Bucks set di ruote tracce gem e i bundle speciali in offerta che sono presenti sullo shop da qualche giorno io vi aspetto più tardi con la mappa creativa stasera in live come al solito per livellare insieme qui sul canale io vi ringrazio per aver visto il video e noi ci vediamo più tardi ciao ciao